Giovedì 4 febbraio, buongiorno dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Gianfrancesco Iacaruso. Prima edizione del Tg, in apertura l'aggiornamento sui dati Covid, perché l'ultimo bilancio di ieri diffuso dall'azienda sanitaria regionale è pesantissimo. 6 pazienti deceduti, 5 ricoveri a malattie infettive e il trasferimento da infettivi a terapia intensiva di 6 pazienti. I nuovi positivi sui 614 tamponi processati sono 81, con una vera esplosione di contagi a Campomarino, dove i casi sono 26. Seguono Termoli con 16 e Campobasso con 10 nuovi positivi. Tutti particolari nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Vediamo. È drammatica la situazione in Molise sul fronte del Covid. Una strage silenziosa che sembra non avere fine e che continua a mietere vittime. Sono infatti sei le persone decedute nelle ultime ore. Una donna di 80 anni di Morone del Sannio, morta in una casa di riposo di Ripa Bottoni. Un 87 anni di Sant'Elia Pianisi, deceduto in una RSA del paese. E poi c'è un 94 anni di Frosolone, morto nella propria abitazione. Mentre i pazienti deceduti al Cardarelli sono tre. Una 89 anni di Sant'Elia Pianisi, una donna di 78 anni di Campobasso, ricoverata in malattie infettive. E un uomo di 63 anni di Venafro, che era ricoverato in terapia intensiva. Aumentano in maniera esponenziale anche i nuovi ricoveri, 5 malattie infettive e il trasferimento da questo reparto in terapia intensiva di ben sei pazienti. Sono 81 i nuovi positivi emersi dai 614 tamponi processati, con un nuovo boom di contagi a Campomarino, dove i nuovi positivi sono 26. Seguono Termoli con 16 e Campobasso con 10. Sei casi a Portocannone, numeri ridotti poi negli altri comuni interessati dalla pandemia. L'unica buona notizia arriva dalle persone guarite, 29 nelle ultime ore. Gli attualmente positivi sono 1.232, le asintomatici a domicilio sono 1.155, in aumento il numero dei ricoverati. Sono attualmente 73, di cui 62 malattie infettive e 11 in terapia intensiva. Le vittime da Covid e dall'inizio della pandemia salgono a 282, mentre i guariti sono 7.083. Il Comitato Santimotio, dopo la visita degli ispettori del Ministero della Salute, accolta con favore dal Presidente Nicola Felice, interviene sulle criticità dell'ospedale di Termoli, una su tutte la carenza di personale. Dal proposito arrivano novità dal reparto di urologia. Ce lo dice in questo servizio Andrea Nasillo. Tanti problemi all'ospedale di Termoli, acuiti dal virus, che vanno però affrontati nell'immediato, senza perdere tempo. È questa la posizione netta del Comitato Santimotio, guidato dal Presidente Nicola Felice, che ha accolto con favore la visita degli ispettori del Ministero della Salute, auspicando che siano state analizzate tutte le criticità, oltre quelle legate alla pandemia. Per quanto riguarda la visita ispettiva, insomma, è positivo che sia arrivata, perché le problematiche ormai le conoscono tutte, sono state ben rappresentate anche a livello ministeriale, sia dal Commissario, ma anche ho visto che finalmente anche qualche parlamentare si decide a prendere delle posizioni nette. Questo è per il Santimotio, però, diciamo, vive in questi giorni ancora nel vedere pure l'indice del Covid che sta salendo. il rischio c'è di andare nuovamente in out, nel senso di correre serie di ischi. Il Comitato, da sempre schierato a sostegno della sanità molisana e in modo particolare attento alle sorti dell'ospedale di Termoli, pone in luce quella che Felice ritiene la problematica più seria, la precarietà nei numeri di quanti lavorano in corsia. Dal pronto soccorso ai vari reparti, negli ultimi giorni c'è anche il caso di urologia. Soprattutto è drammatico personale, personale che necessariamente va rafforzato. Notiamo anche in questo sempre rallentamenti, non notiamo se è da anni che non si fanno i concorsi da primariato. Mi preoccupa pure che a giorni credo che anche il reparto urologia, il primario è un reparto dipartimentale, il primario pure va in quiescenza e già è ridotto all'osso con appena tre persone. Quindi urge assolutamente fare avviso pubblico sia per contratti temporanei ma soprattutto bande di concorso per l'assunzione a tempi indeterminati. Quindi il Santimoteo, a dire la verità, non ci voleva solo il Covid, già avevamo dei seri problemi. L'allarme nostro è che purtroppo continuiamo ad assistere a grossi annunci ma a realizzazioni ben poche, soprattutto sul personale. Perché non si può continuare a fare contratte a tempo partitaivo, a tempo determinato, perché abbiamo avuto in vari casi che persone, specialisti, sono anche venuti qui, però dopo non avendo avuto riscontro nei concorsi definitivi hanno preferito altri lidi. E con la nostra informazione ci fermiamo. Adesso uno sguardo ai quotidiani. Iniziamo dal giornale del Molise.it. C'è questa notizia. Il grande giorno è arrivato, sbarcati in Cina i marinai italiani. Gianluca Perino sabato sarà a Termoli. E poi le notizie che riguardano l'emergenza sanitaria. Vaccini somministrate oltre 11.000 dosi. La campagna vaccinale va avanti. Intanto avete sentito per il Covid una strage senza fine. Altre sei vittime nelle ultime ore. Boom di contagi a Campomarino. Mentre arriva Limosani. Screening a tappeto per studenti, insegnanti e personale scolastico. Ora su futuro Molise. Vittime del Covid. La procura di Campobasso indaga sul disastro sanitario. Una notizia oltretutto anticipata sotto certi aspetti dal procuratore D'Angelo nel corso della trasmissione di Tele Molise. Ingresso libero. Sulla destra leggiamo ATM. I sindacati dicono dipendenti ancora senza stipendio e la Regione, nonostante gli impegni, non si avvale del potere sostitutivo. A Termoli adesso cronaca. Denunciate tre persone trovate in possesso di arnesi da scasso e un connettore OBD che è una centralina. Ancora per quanto riguarda il mondo del turismo e della cultura. Turismo Molisano presentato il nuovo brand. Ecatombe Covid. Sei morti e sei ricoveri in rianimazione è il titolo che apre l'edizione di oggi di primo piano. Esplode il Cardarelli. Mai tanti pazienti. 11 in terapia intensiva e 62 in malattie infettive dove ieri sono entrati 5 nuovi degenti. Dilaga il contagio in Basso Molise. Processati 614 tamponi, 81 casi accertati e 29 guariti. Il tasso di positività schizza al 13,2%. Le altre notizie correlate all'emergenza sanità. Leggiamo vittime del virus al Cardarelli. La procura apre un fascicolo soddisfatto il comitato verità e giustizia. Mentre in alto c'è un dissenso sui vaccini. L'ordine dei medici di Campobasso abbandona l'unità di crisi. A centropagina questa foto. Draghi. Greco non commenta. Toma invece dice fiducia in Mattarella. Facciolla è la strada giusta. Si parla chiaramente dell'incarico a Mario Draghi. A proposito di questo c'è il punto. La rubrica è il punto oggi a firma di Luca Colella, del direttore Colella. Gravina scivola su Draghi che caduta di stile. Il direttore fa riferimento a una nota stampa giunta ieri mattina nelle redazioni da parte di Gravina. Vediamo anche le altre notizie. Siamo a quelle sotto la testata. Isernia al voto. Gli effetti della crisi di governo sull'intesa tra Democratici e 5 Stelle. Qui c'è anche quest'altra notizia di cronaca. Si parla di una strage evitata sull'autostrada A14, fermato a Termoli, camionista polacco che guidava ubriaco. A centropagina adesso un richiamo da Venafro, città in lutto per Vincenzo, amico di tutti, buono e geronorioso. Altre notizie in basso. Ieri c'è stato il turno infrasettimanale di Serie D, ma prima di questo c'è una notizia che riguarda il mondo dello spettacolo, perché torna Joe Bavota, l'Elvis Mann, protagonista del videoclip romantico di Guida Manglaviti. Dicevamo del Campobasso, strapotere rosso-blu, esposito in canta, bontà fa il cannoniere e Di Domenico Antonio la chiude 4 a 1 al Rieti. Vasto Girardi ancora una prestazione da urlo, dunque per gli altomorisani, alba longa, K.O. Invece per l'Agnonese Enesima De Bacl perde 4 a 0 ad Aprilia e si dimette il direttore sportivo Strino. Siamo adesso sull'informazione nazionale, qui chiaramente le aperture sono tutte per l'incarico a Draghi, il Corriere apre così, le mosse di Draghi serve unità. Appello ai partiti, oggi le consultazioni. Sostegno PD, mentre il Movimento 5 Stelle è nel caos, centrodestra diviso, intanto vola la borsa e scende lo spread. A centropagina c'è quest'altra notizia, sì agli anticorpi monoclonali, c'è il via libera per curare il Covid per malati ad alto rischio. Ci spostiamo adesso su Repubblica. Draghi, ostacoli a 5 stelle. Il Premier incaricato chiede risposte all'altezza dell'emergenza. Il PD abbiamo visto disponibile, Berlusconi apre, Meloni e Salvini litigano sull'astenzione. Si spacca invece il Movimento 5 Stelle. Di Maio, dice il governo politico, spunta intanto le ipotesi di recuperare Conte a Bruxelles come commissario e Gentiloni al Tesoro. Di spalla, via ai vaccini per insegnanti, forze dell'ordine e detenuti. Cure monoclonali, intanto arriva il primo sì da parte dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. La stampa, Draghi c'è, la maggioranza è un rebus, questo è il titolo di apertura. Abbiamo visto dunque problemi tra i 5 stelle, Grillo dice non lo votiamo, il PD restiamo uniti. L'ex presidente della Banca Centrale Europea accetta l'incarico con riserva e via alle consultazioni. Uno sguardo al fatto quotidiano, Conte e i 5 stelle, i primi no a Draghi. Il tecnico vorrebbe tutti dentro, per ora ha solo PD, forse Italia è Italia viva. L'incontro con l'ex, il premier uscente non sarà ministro, scrive il fatto. Il colle, se fallisce Mario, altro nome, poi ci sarà il voto. Dunque, secondo quando leggiamo sul fatto quotidiano, ci sarebbe ancora un'alternativa a Draghi. Libero, Draghi, strada in salita. Fare il premier non è come stare alla Banca Centrale Europea. L'ex banchiere inizia le consultazioni, il Parlamento conta un sostegno inferiore a quello di Conte. Decisivo sarà il centrodestra. Forza Italia ci sta, Meloni no, Salvini non vuole che duri due anni. Il Movimento 5 stelle, aggiunge Libero, non è più, tra virgolette, costruttore. Grillo ordina di boicottare il nuovo governo. E adesso da Libero ci spostiamo al messaggero, governo Draghi, la Lega apre. Lettura ancora di possibilista, il messaggero, l'ex presidente della Banca Centrale Europea, al lavoro per formare una maggioranza che unisca PD e centrodestra. Meloni si sfila, non ci sto, Movimento 5 stelle diviso. In basso, altre notizie, allarme varianti, invisibili ai tamponi. Riunione d'urgenza al Ministero per i contagi. I nuovi virus non rilevati dai test rapidi, scrive il messaggero. Draghi cerca le stelle, il titolo che è l'apertura del quotidiano della CEI a venire. Decisivo per far nascere il nuovo governo, l'appoggio dunque del Movimento 5 stelle, che si spacca ed è incerto. Scontato il sì del Partito Democratico, centrodestra combattuto fra l'ok di Forza Italia, l'astenzione di Fratelli d'Italia e le condizioni della Lega. A centro pagina c'è un reportage dell'avvenire quei fantasmi dannati nella leve di Lipia. L'avvenire è inviato nel campo definito ufficiale, dove ci sono dieci gabinetti per mille uomini, solo un panino e carne scatola, niente zuppa calda. Dall'avvenire al mattino, analoga apertura politica, Draghi, governo dal PD alla Lega, il sì di Salvini e Forza Italia, Meloni non cede. Andiamo a vedere anche le notizie regionali. Scuola, in Campania salgono i contagi, pronta una nuova stretta. Sul tavolo lo stop delle superiori decisivi per la regione, i dati dei prossimi giorni. La tela del drago, e siamo adesso sul quotidiano unista. Il manifesto, l'ex presidente della BCE, accetta con riserva l'incarico di formare il governo. La sua prima mossa fuori dalla Prassi è un lungo incontro con Conte, ma non ha ancora una maggioranza. Salvini pensa all'astenzione, i 5 Stelle vogliono un esecutivo politico. PD e l'EU salvano l'alleanza. In basso, Alvia, gli over 80, ma con Pfizer e Moderna. Piano vaccini, accordo Stato-Regioni sulla distribuzione delle dossi. Il tempo finisce l'era degli incapaci, ed è dunque l'ex presidente della BCE, prova a sbarazzarsi di quelli che hanno affossato l'Italia. Conte, Azzolina, Bonafede, Alcuri, De Micheli, Spadafora, i peggiori, secondo il quotidiano della Capitale, tra errori e gaffa. Per fortuna non vedremo più le loro dirette sui social e in tv. È l'ora della serietà e concretezza, aggiunge il tempo. Ci spostiamo adesso sulla verità. Le condizioni per stare con Draghi. Bisognerebbe votare, per ora ce lo impediscono, scrive il quotidiano di Belpietro. Dopo aver festeggiato per la liberazione da Giuseppi, Bonafede, Azzolina e Speranza, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Poteva andarci peggio. Il centrodestra rifletta bene prima di bocciare l'ex capo della BCE e regalarlo alla sinistra. Lo valuti dal programma. Dunque questo l'invito della verità. Mentre il secolo d'Italia, Giorgia Meloni, non siamo una democrazia di serie B, decida il popolo. Non condivido la scelta di aver escluso il voto, ha detto dunque la lidere di Fratelli d'Italia. Adesso lo sport sulla Gazzetta, che dedica spazio a Conte. Tre tormenti, vediamo quali sono. Troppi errori, da Andanovic a Sanchez, tutte sviste che pesano. Cosa fa Suning? Progetto fermo dalla proprietà, nessun segnale. Tanto la signora risale, i bianconeri in rialzo si rivelano ancora insidiosi. E Pirlo, leggiamo di spalla, che musica, carisma da maestro per una nuova Juve e la gestione di Cristiano Ronaldo. In basso, Atalanta, un Ospina nel fianco, che è il portiere del Napoli. La Dea è bella, il portiere salva il Napoli, la partita finisce 0-0. Mercoledì ci sarà il ritorno. Bene, anche oggi con lo sport, e in particolare con la Gazzetta dello Sport, terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Vi ricordo, alle 14, la seconda edizione del telegiornale. Buona giornata. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.